Sì, grazie. Volevo rivolgere alcune domande al Presidente Barroso, ma le rivolgo volentieri al Commissario Renn. Commissario Renn, lei, la Commissione europea, avete letto che il Fondo monetario internazionale prevede che l'Italia non raggiungerà l'obiettivo del pareggio di bilancio né nel 2013 né molto probabilmente nel 2014? Questa previsione suscita in voi qualche riflessione? Parlo dell'Italia ma potrei parlare di altri Paesi. L'aspetto più curioso è che il Fondo monetario ci dice che se non ci fosse la recessione l'Italia avrebbe un surplus dello 0,6%, fantastico, ma il problema è che la crisi c'è, la recessione c'è, è difficile fingere che non ci sia. Signor Presidente Olli Barroso, signor Commissario Renn, in Europa stiamo facendo delle scelte basate sulla analisi della situazione che stiamo vivendo o ci limitiamo ad applicare una dottrina fatta di principi astratti? Io credo che noi continuiamo ad essere concentrati su obiettivi non allineati con il trend del ciclo economico. Signor Commissario, oggi ci sono stati illustrati i programmi della Commissione europea per la crescita, ma lei è sicuro che sia sufficiente una crescita basata sui principi della supply side policy senza considerare l'almeno uguale pari importanza di una politica che agisca dal lato della domanda aggregata? Signor Commissario, io termino con un appello. La prego di parlare con i cittadini europei un linguaggio di verità, la verità sulla crisi e la concretezza che ancora non abbiamo delle scelte da intraprendere Grazie. 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 Grazie.